Un albanese di 23 anni, residente a Solbiato e Comasco, è stato arrestato ieri sera a Faloppio con l'accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri mentre stava cercando di vendere una dose di cocaina a un uomo di 38 anni del paese. I carabinieri della stazione di Faloppio, durante un'attività di controllo e prevenzione, hanno notato alcuni movimenti sospetti e sono intervenuti, bloccando l'albanese in flagranza di reato mentre cercava di spacciare la droga. I militari dell'arma hanno poi proseguito con gli accertamenti. Il 23enne è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di 13 dosi preconfezionate di cocaina pronte per essere vendute per un totale di altri 6 grammi di droga nascosti in una tasca dei pantaloni. La cocaina è stata sequestrata e l'albanese è stato arrestato. Grazie a tutti.